La mattina appena sveglio ho bisogno di rimettermi in contatto col mio respiro, col mio corpo, col mondo che mi circonda. Preparo tutto l'occorrente accanto a me la sera prima. Bevo acqua. Faccio un lieve massaggio con olio, questa volta olio di cocco, che è profumatissimo e rinfrescante. Faccio un lieve massaggio con olio, questa volta olio di cocco, che è profumatissimo e rinfrescante. Ho bisogno di risvegliare i muscoli e posso cominciare la mia giornata. Quando scendo in cucina, Massi ha già messo su il caffè e io ho il tempo di dedicarmi alla mia skin care molto semplice e una doccia che mi aiuta a sentirmi subito più energica. La colazione è pronta, sana e buonissima. Sono dei vasa con marmellata di prugne fatta in casa, latte di soia e caffè. E' ora di andare a fare delle commissioni. Il vantaggio di vivere in un paese più piccolo è che hai tutto sotto mano. Puoi muoverti a piedi e fare tutto in pochissimo tempo. Questo è un negoziato della mia città, dove trovo tantissimi prodotti naturali per la cura del corpo e non solo. Mi servivano degli incensi che utilizzo per profumare gli ambienti e rilassarmi. E ho scelto questi al talco e tè bianco, che sono davvero molto profumati. Un'altra cosa che amo del sud è che a pranzo qualche volta puoi andare a trovare i tuoi genitori e goderti la tua famiglia. Dopo pranzo ho terminato dei lavori al pc, poi la parte della giornata che più mi piace. Uno dei momenti per i quali non cambierei la Puglia per nessun altro luogo al mondo. La natura è un dono prezioso e ora ha la fortuna di trovare questi paesaggi incantevoli a due passi da casa mia. Il mare mi insegna l'importanza del respiro e del tempo che scorre. è che dobbiamo vivere lentamente, istante dopo istante, perché nelle cose semplici che possiamo scorgere attimi di eternità. Passeggiare al tramonto mi dona un senso di serenità profonda e mi aiuta ad apprezzare la bellezza delle piccole cose. Non ho bisogno di nulla per sentirmi felice, il profumo del mare, il suono delle onde, il vento leggero mi ricordano che sono ricca e fortunata. Tornata a casa preparo la cena, questa volta una cosa leggera, frutta e verdura raccolte qui, nella mia terra. E credo che la felicità sia una cosa semplice. Grazie. 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 Grazie.